Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del TG Web del quotidiano L'Attacco. Tiene banco a Foggia da diverso tempo la questione legata alla costruzione di un centro di raccolta dei rifiuti lungo Viale Kennedy nel quartiere CEP a pochi passi da un distributore di benzina e da un parco giochi per bambini. Sentiamo Domenico Suriano. Un CCR che sorgerà a pochi passi da una benzina e di fronte a un parco giochi per bambini. Quali sono le lamentele, le problematiche della popolazione che ci vive? Allora, io ho da premettere una cosa. Non sono contrario a queste iniziative perché sono cose utili. Però vanno fatte in luoghi adatti e non in un centro abitato dove esiste un parco gioco da anni che è l'unica cosa che funziona al CEP dove vengono tanta gente da altri rioni. In più c'è un distributore di benzina, anche se dicono loro che non c'è pericolo. Comunque sia, è sempre una cosa non accettabile dove verrà fatto o se verrà fatto. Qui al CEP accanto a un parco giochi dovrebbe nascere un centro comunale di raccolta rifiuti. Voi non siete d'accordo? Per quale motivo? Allora, personalmente non è che sono disaccordo a prescindere. Perché se tu ti giri qua dietro, vedi che la discarica sta qua dietro. Però anche questa discarica non può essere fatta vicino al distributore di benzina. Devo ammettere che se per caso chi ha progettato questa discarica qua l'ha progettata per un mio comportamento sbagliato. Perché io butto l'imbondizia, il materasso vicino qua dietro e poi va a finire che mi fanno questo. Allora è un comportamento della popolazione sbagliata. Dobbiamo comportarci diversamente. Però a prescindere da tutto, vicino a un distributore di benzina non può esserci nemmeno l'erba secca. Se si incendia l'erba secca praticamente prende fuoco tutto. A fianco a 4 metri dalla discarica c'è un palazzo dove abitano delle persone ed è pericoloso. Proprio stamattina qui mi sono andato a informare quella persona del benzinaio. Praticamente questi qua molto probabilmente, molto probabilmente si sono appropriati del territorio dell'Eni. Perché loro, dove sta il recinto che hanno fatto loro? Sono venuti al di qua dei tombini dell'Eni. Non so se appartenevano all'Eni, dove stavano i tombini, ma sicuramente appartenevano anche all'Eni. Si sono appropriati anche di una parte del territorio del distributore. La fiera del Levante, contrassegnata dalla coppia Emiliano De Caro, è stata la fiera delle vanità. Lo ha detto Francesco Ventola, capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa convocata per fare il bilancio della settimana della campionaria. Sentiamo. Si è parlato solo dell'addio di De Caro alla città e dei pianti di Emiliano a punte di De Caro. Credo che questo sia un fallimento totale. Capire per bene se ci sono ancora le condizioni per poter tenere in piedi una campionaria che oramai è fuori dal contesto socioproduttivo mondiale. Prima la fiera del Levante, l'ho stata per tantissimi anni, dal 1929, da quando è nata, era l'inizio di un'attività imprenditoriale che guardava all'Oriente, che guardava al Mediterraneo. Ora è diventato, purtroppo... Cosa proponete? Ma noi proponiamo intanto, adesso attraverso l'Istituto delle Interrogazioni, capiremo per bene quelli che sono stati gli investimenti, o meno da parte nostra, gli sperperi, che la Regione Puglia continua ancora a perpetrare nei confronti e a danno dei cittadini pugliesi. Perché la fiera del Levante, oggi i padiglioni, sono fittati da agenzie regionali, si continuano a pagare l'autifitti, non se ne capisce perché. Lo ha detto anche la Corte dei Conti e quindi dobbiamo prima capire che impegno ha la Regione nei confronti di questa fiera. E soprattutto va definita, una volta per tutte, la questione dell'ospedale Covid, che continua a mettere debiti per la nostra Regione. Noi lamentiamo anche la carenza di programmazione da parte dell'Aggiunta Emiliano, cioè non c'è un sistema fieristico regionale, non sappiamo quello che deve fare la fiera di Foggia, che una volta era la fiera dell'agricoltura, ed è stata lungamente una delle più importanti d'Italia. Non sappiamo quello che deve fare la fiera del Levante di Bari. Anche su questo il governo Emiliano non ha una programmazione, ha completamente fallito. Una volta c'era un sistema fieristico regionale che abbracciava più fiere in tutta la Puglia. Oggi si vive alla giornata, si vive in base alle richieste momentanee, si vive in base alle esigenze elettorali o di De Caro o di Emiliano. Tutto questo, secondo noi, non è corretto, non è giusto e vorremmo che il governo Emiliano tornasse a far sì che il sistema fieristico regionale sia un unicum e le risorse vengano distribuite equamente su tutto il territorio regionale. Inaugurato a Borgo Cervaro, chilometro verde, il polo tecnologico per l'economia circolare e le fonti rinnovabili, creato dall'ingegner Marcello Salvatori di Sistemi Energetici S.p.A. il resoconto di Lucia Piemontese. La giornata storica, un esempio per tutti di imprenditoria sana e innovativa, la dimostrazione che anche a Foggia può nascere una grande operazione industriale tecnologicamente avanzata. Sono state tante le parole di plauso che sono arrivate questa mattina per l'ingegner Marcello Salvatori, patron della Foggiana Sistemi Energetici S.p.A., che a Borgo Cervaro ha dato vita a chilometro verde il polo tecnologico per l'economia circolare e le fonti rinnovabili, creato sulle macerie del sito dismesso da ferrovie dello Stato 20 ettari che sono stati sottratti all'abbandono, al degrado più totali. La cerimonia inaugurale e il successivo convegno sulle comunità energetiche hanno avvisto illustri relatori e la forte vicinanza delle istituzioni a partire dal vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e dal rettore dell'Università di Foggia Lorenzo Lomuzio, i quali sono complementati vivamente con Salvatori e l'hanno appunto portato come esempio per tutta l'imprenditoria di Capitanata. Un Living Lab, uno spazio dedicato ai temi del risparmio energetico e dell'ambiente, inaugurato oggi nella Scuola d'Infanzia Madonna delle Grazie di Termoli, nell'ambito del progetto europeo EFFECTS. Gli operatori dell'Interreg, con l'assessore comunale alle politiche sociali Silvana Cicciola, hanno apposto una targa nell'area laboratoriale della struttura didattica di via Monte Carlo. L'iniziativa rientra nel programma transfrontaliero cofinanziato dal piano Interreg Italia-Albania-Montenegro, di cui il comune di Termoli è partner, e fa seguito all'installazione di un impianto fotovoltaico e di illuminazione a LED nella Scuola Madonna delle Grazie, dove si sono tenute attività di Capacity Building degli alunni, degli insegnanti e dei genitori della scuola, sui temi dell'efficientamento energetico. È stata inaugurata in via Pignatelli a Lucera la mostra dell'illustratrice Seiko Kawaguchi, organizzata dall'associazione UTO, lo spazio della luce. Sentiamo Anna Ricciardi. Lo spazio laboratoriale dell'associazione UTO, lo spazio della luce in via Pignatelli a Lucera, ha ospitato le invenzioni visive dell'illustratrice giapponese Seiko Kawaguchi, capace di unire il mondo umano a quello della natura. La mostra dal titolo L'essenza dell'EN racchiude opere dipinti della sua cinquantennale carriera. L'evento dal respiro orientale è stato promosso in collaborazione con Poser di Giorgia Ferozi e Masseria nel Sole. Seiko Kawaguchi, classe 1954, vive d'opera Shirahama, la splendida spiaggia bianca in Giappone, dove ha trasferito il proprio posto di lavoro dando vita al suo marchio di prodotti, arte Seiko. Grafiche, illustrazioni digitali, come le creazioni che affondano le loro radici nell'anima di creatrice pubblicitaria, che hanno visto l'artista giapponese lavorare per un decennio a Tokyo per importanti società internazionali come Sony, Warner Bros. e Rara Havis. Seiko è legata a Lucera dall'amicizia della famiglia Di Muro nata negli anni 90. Così, grazie a Duto, l'illustratrice giapponese ha potuto esporre la sua arte in città. Chiudiamo con una notizia, un progetto multisport interamente dedicato alle donne operate al seno e quello finanziato per la prima volta in provincia di Foggia dalla Susan Comen, organizzazione internazionale che combatte al fianco delle donne la estenuante lotta contro il tumore al seno tramite il suo comitato regionale Puglia. Il progetto finanziato è stato ideato dall'Unione Italiana Sport per Tutti Foggia-Manfredonia. Destinatari delle attività ludico-motorie, le donne associate ad Andos, l'Associazione Nazionale delle Donne Operate al Seno di Foggia. Il progetto, dal titolo Never Alone, Mai Sola, verrà presentato nella conferenza stampa che si terrà sabato 23 settembre presso l'Aula Magna dell'Istituto Scolastico Giannone Masi di Foggia. È tutto per questa edizione del TgWeb del Quotidiano L'Attacco. Grazie per essere stati con noi. Buona serata da Onofrio D'Alessio. Grazie per essere stati con noi.